Nuovo appuntamento con il metodo Di Bella con una puntata straordinaria di medicina e ricerca nuove frontiere a cura di Chiara De Logu. In questa intervista il dottor Giuseppe Di Bella illustra le caratteristiche del sistema immunitario e il valore della prevenzione. Grazie al metodo è possibile potenziare il nostro sistema immunitario così da limitare la malattia e i danni correlati. Parleremo anche dei vaccini di nuova generazione somministrati in età neonatale e degli obblighi vaccinali. Potenziare il sistema immunitario significa proteggersi da possibili attacchi virali e tumorali. Non mancate domenica sera alle ore 20 e 30 su Telecolor.